ciao a tutti beauty space per noi è lo spazio dedicato alla bellezza siamo qui con la dottoressa arcangela volpe chirurgo plastico ed estetico che ci parlerà dei trattamenti che si possono eseguire al centro medico pugliese ci può parlare di eventuali trattamenti alternativi ai trattamenti con iniettabili metodiche alternative a tutto ciò che iniettabile in particolar modo possiamo anche parlare dei trattamenti con laser frazionato co2 si tratta di un trattamento che ha una logica soprattutto quando ci troviamo di fronte ad una cute matura e che assegni di crono aging e foto aging dove effettivamente gli acidi aluronici non bastano si tratta di un laser co2 frazionato che ha la funzione di creare proprio perché un raggio non continuo delle micro lesioni che possono raggiungere profondità differenti nel derma a seconda della potenza e della diciamo dei parametri che noi ovviamente inseriremo in base anche al fototipo all'età del paziente e a quello che è l'obiettivo da raggiungere ci consentirà però di creare un'ablazione parziale nel senso che a differenza dei vecchi laser il trattamento prevede una restituzione di integrum nel giro di una settimana il resurfese è un trattamento che ovviamente va fatto in un periodo freddo perché il rischio è quello di esporsi come complicanza ad una iperpigmentazione ecco perché è proscritto nel periodo estivo ringrazio di cuore la dottoressa volpe per essere stata con noi grazie a voi per aver seguito questa nostra rassegna continuateci a seguire sui nostri social e sottoponeteci le vostre domande